Buongiorno, il nostro rifugio, Berto Maroli, è situato su un palcoscenico naturale di fronte alla parete est del Monte Rosa, è sito in Macugnaga ed è raggiungibile con la funivia. Sin dai primi del Novecento è stato un punto molto importante per lo sviluppo dell'alpinismo in Val d'Ossola. Siamo a due ore da Matmark, dalla vicina Svizzera e a 50 metri dal colfine della stessa. Le nostre proposte sono tutte legate al territorio, sia dal vino, è legato alla tradizione ossolana, quindi produttori locali o produttori della bassa novarese. Cerchiamo di rivisitare i piatti della tradizione ossolana con la nostra cucina semplice, casalinga, allo stesso tempo legata molto alla tradizione montana. Abbiamo la disponibilità di 25 posti letto in rifugio, soprattutto sfruttati durante la stagione estiva per il tour del Monte Rosa. Abbiamo a disposizione per i nostri clienti tre camere da sei posti, una camera da quattro e una camera da tre. La doccia calda è un servizio che offriamo per tutta la durata del periodo estivo, che parte da giugno e termina fino a fine settembre. Questi sono i nostri periodi di apertura estivi. Mentre per quanto riguarda l'inverno, le camere, il ristorante, il rifugio e noi e tutto lo staff siamo a disposizione vostra da dicembre fino ad aprile a chiusura impianti. Dalla nostra sala, qua al rifugio Oberto, si può ammirare la parete est del Monte Rosa, che è stupenda. Possiamo ospitare più o meno una cinquantina di persone. E quando è bella la giornata, un posto del genere, penso che ne vale veramente la pena venirci. Adesso penso che è la parte più bella per vedere il Monte Rosa, questa. Grazie. 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 Grazie.